I salari di ingresso dei giovani sul mercato del lavoro in termini reali sono fermi da oltre un decennio, su livelli al di sotto di quelli degli anni Ottanta. La recessione ha reso più difficile la situazione. Il tasso di disoccupazione giovanile sfiora il 30%. Si accentua la dipendenza già elevata nel confronto internazionale dalla ricchezza e dal reddito dei genitori, un fattore di forte iniquità sociale. Vi contribuisce fortemente la segmentazione del mercato del lavoro italiano, dove vige il minimo di mobilità a un estremo, il massimo di precarietà all'altro. È uno spreco di risorse che abilisce i giovani e intacca gravemente l'efficienza del sistema produttivo. In Italia la crescita stenta da 15 anni. Sulle cause di fondo e sulle linee di un'azione di riforma ci siamo soffermati più volte in altre sedi. Ma comunque voglio ricordare qui alcune cause di fondo di questa situazione. Prima di tutto, a beneficio della crescita di tutta l'economia, andrebbe un assetto normativo ispirato pragmaticamente all'efficienza del sistema. L'Italia si segnala ancora in tutte le classifiche internazionali per l'onerosità degli adempimenti burocratici, specie quelli addossati alle imprese. E' in corso l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti e ancora una volta il Presidente della Corte lancia un allarme sulla corruzione nel nostro paese. Parla apertamente di una patologia dell'Italia a proposito della corruzione. Dati alla mano, nel 2010 i reati cosiddetti corruttivi hanno registrato un aumento del 30%, mentre contestualmente c'è stato un calo altrettanto rilevante delle denunce. E in questa seconda fattispecie il Presidente della Corte dei Conti ravvede una sorta di assuefazione del paese al fenomeno della corruzione. Il secondo ragionamento che sta facendo nel suo intervento rispetto a questi dati è invece più proiettato sulle norme che si stanno studiando e preparando nel paese. In particolare lui lancia l'allarme sia sul cosiddetto processo breve che sulla riforma delle norme sulle intercettazioni, sostenendo che si tratta in tutti e due i casi di rischi molto forti nel ridimensionare la lotta alla corruzione.